La massima di 18 gradi, vento di tramontana, intensità, brezza, leggera. È tutto, arrivederci. Un cast dalla straordinaria simpatia per un serial da non perdere. È come se il tempo si fosse fermato lì sotto. La natura non è stata disturbata. Una valle incantata dove la vita dei personaggi si dipana serena. Poi veniamo a dormire nel mio letto. A dormire. Ogni giorno alle 13 appuntamento con il serial Wondin Valley, telestudio. Cercherò di essere il più breve possibile. Un gruppo di avvocati in difesa dei più deboli. Signora Baker, è possibile che suo marito lo stesse picchiando in quel momento? In difesa di chi è dalla parte della legge, della giustizia. Capisco. Avvocati da cause impossibili. Com'è andata? Ecco io ho perso. Certo.